La protesta dei richiedenti asilo di Tradatea del surreale. Sono ospiti da mesi, eppure ancora oggi non hanno alcuna risposta in merito alla richiesta di essere riconosciuti come aventi diritto all'asilo. Il paradosso per di più è che i costi ormai superano il milione di euro all'anno e l'amministrazione comunale che fiancheggia la presenza di questi clandestini se ne fa addirittura vanto, addirittura utilizzandole le manifestazioni pubbliche come fosse la passerella in cui farli sfilare per ricevere degli applausi. È un atteggiamento vergognoso. Un sistema serio definisce in poche settimane le richieste di chi dice di essere profugo e venire da zone di guerra e rispedisce invece al paese di provenienza chi non ha alcun diritto. A tradate invece tutto questo sembra dimenticato. Anzi, fa comodo tenerli. Forse anche perché questi costi garantiscono un sistema clienterale alle spalle di cui non vogliamo che la nostra città sia portata ad essere parte.